La città è invitata del nono Memorial Fabrizio Biaccini Primo posto L'Odio Serie 2 Bravi ragazzi, primo posto L'Odio Vincitori del nono Memorial Fabrizio Biaccini Prima squadra classificata Orio Un grosso applauso Consegna della coppa Alla squadra dell'Orio Mettetevi qua che vi fa la foto Che vi consegna bene la coppa Capitano Giratevi verso il fotografo Giù me la coppa Una bella foto Bravissimi Bravi, grazie a tutti Continuiamo La premiazione della scuola calcio 2006-2007 Memorial Architetto Enrico Carrera Per la premiazione Chiamo Grazie a tutti